Proseguono i lavori per realizzare i nuovi laboratori gastronomici dell'Istituto Professionale Flora di Pordenone. La struttura, di circa 360 metri quadri, sorgerà a fianco della scuola di Via Ferraris e accoglierà due laboratori e due sale di cucina per gli studenti dell'indirizzo enogastronomico alberghiero, a progettare e finanziare i laboratori e la provincia di Pordenone. Era un'opera molto attesa dagli studenti, dai docenti, dalle famiglie e dai ragazzi del Flora, una delle scuole più importanti nel nostro territorio, soprattutto questo indirizzo alberghiero turistico. In tempi record, devo dire, abbiamo mantenuto la promessa, quasi 700 mila euro investiti per la realizzazione di questi laboratori, che permetteranno ai ragazzi di restare a scuola e di non andare più a prendere le corriere per andare in altri posti a fare laboratorio. Per di più un contributo, grazie all'interessamento della precedente amministrazione regionale, anche per l'acquisto degli arredi e delle strutture interne. È un contributo fattivo per migliorare la qualità della formazione e dell'istruzione nel nostro territorio. Burocrazia permettendo, intoppi permettendo, si può dire che saranno pronti per il prossimo anno scolastico? Beh, è un impegno che ci siamo presi, devo dire, grazie all'assessore Verdi Chizzi, al sore Zagner, che sono succeduti nel seguire quest'opera, agli uffici della provincia, che sono stati davvero efficientissimi e professionali. Per l'inizio dell'anno scolastico i laboratori saranno pronti.